Ci puoi delineare un pochino nomi e soprattutto obiettivi della lista, anche se il candidato sindaco Vincenzo Iuliano è stato molto chiaro nelle sue conveggio? Ma più che una lista di proteste è una lista di governo, perché il nostro obiettivo è andare a governare questo Paese, partire dalla trasparenza amministrativa, dalla politica come elemento protagonista, mettere al centro di nuovi cittadini non come la differenziazione tra cittadini di serie B e di cittadini di serie A. Per noi saremo il governo di questo Paese per laggiare una svolta sotto il tema urbanistico, dell'ambiente, di come guardare la città Caudino come elemento innovativo per portare Cervinara di nuovo nel sistema Irpino e valorizzare le intelligenze e le capacità di questa città, di questa città di Cervinara. Andiamo ad analizzare la lista, così come abbiamo fatto anche con la prima lista, quella dell'amministrazione uscente. Candidato sindaco Vincenzo Iuliano, gli altri candidati partiamo dalle donne che oggi sono forse la cosa più importante nelle liste, quattro ragazze, quattro novità, una Veronica Spiotta che conosciamo benissimo anche perché è impegnata nel sociale, le altre tre donne? Donne sono casalingue, sono studentese, sono lavoratrici, sono la parte sana di questa società che si vuole mettere in gioco per lanciare una proposta politica serio, come dicevo prima, rispetto ai trasformismi, il clientelismo che in questi anni ha invaso le nostre coscienze, la nostra collettività senza lanciare un progetto organico per Cervinara. Un pochino i nomi, così chi ci ascolta sa già... I nomi verranno ufficializzati nell'arco della giornata, anche questo qua tocca al candidato sindaco che ha l'onore di guidare questa lista e non voglio togliere l'onore al dottor Vincenzo Uliano. Passiamo ai ragazzi, ragazzi di fianco c'è l'avvocato Florimo che dall'inizio ha partecipato al progetto Bene Comune, così come anche l'amico sulla tua sinistra. Diciamo che ci sono molte persone che in passato sono persone impegnate nella vita lavorativa quotidiana, fanno tanti sacrifici, quindi una lista che anche da questo punto di vista punta al sacrificio, punta all'essere protagonista con il lavoro. Sì, un insieme di giovani, di professionisti, di imprenditori che vogliono mettere la loro intelligenza, le loro capacità e il loro viso per una battaglia politica, di morale, di etica per cambiare questo Paese. Diciamo che questa è la nostra intenzione e intorno a questo vogliamo raccogliere l'adesione di altri giovani e di altre persone che vogliono dare veramente una svolta a questo Paese. Chiudiamo con una domanda, come sarà secondo te la campagna elettorale? Una campagna elettorale tranquilla o su toni alti? Io credo che questa lista, il Movimento Bene Comune, sa come fare la campagna elettorale, proporrà dei contenuti, degli obiettivi, delle proposte per governare questo Paese. Poi il resto sarà lasciato agli altri che vogliono portare la politica come in questi anni a farsi accusi il reciproco e non governare questo Paese. Chiudiamo, ho detto una bugia prima, chiudiamo con l'ultima domanda, adesso veramente l'ultima domanda. Nicola Servodio rappresenta per sommi capi la politica di protesta, l'altra politica, la vera politica cervinaresa che non è riuscita mai ad andare al governo. Ora? Come ti dicevo, non governiamo o non vogliamo essere la politica di protesta, noi vogliamo essere la politica che governa questo Paese con le regole istituzionali, costituzionali che i nostri padri costituenti hanno dato all'Italia, non la politica della corruzione, del malaffare, della vendita e della cancellazione dei diritti delle persone.